Ok, finalmente. Prima di cominciare, sicurati che la cartella sia stata estratta. Premi invio per continuare. Sì, sono pronto. Se non avete soddisfatto quanto richiesto, siete pregati di uscire dal gioco premendo il tasto ESC. Quanto è solenne tutto questo. Se invece avete estratto la cartella da raro, siete libri di proseguire. Ma basta, sì. Il gioco sta per cominciare. I tasti BUSD servono per muoversi nell'ambiente di gioco. Ma che cazzo è sta roba, ragazzi? Il tasto E serve per interagire con porte o oggetti. Bene. Il tasto SHIFT ve la mette nel culo. Bene, mentre siete in movimento. Il tasto CTRL serve per accuvacciarvi. Sentite lì, è libero di guardarvi intorno con il mouse. Grazie, gioco. Sei gentilissimo. Grazie, gioco. Sei veramente di un gentile. E' importante giocare con volume medio-alto. Anche delle cuffie andranno bene. Ok. Che cazzo è sta roba? Per il suo messamento è dispiaciuto. Non avrei voluto, davvero. Io non avrei mai voluto leggere tutto questo. Scusatemi. Tua sorella, mi scuso. Quindi. Incomincia. Malissimo. Che bella. Ragazzi, 4K. Ora sì che serve la fibra. Cos'è? Hai raccolto una piccola chiave. No, che bu... Ma cazzo! Ma davvero devi fare sto casino per aprire un armadio? Un po' d'olio? Un po' di qualcosa? Non incastrarti. Exit. Ho bisogno di un cuore per aprirla. Eh, fratello, io non ho cuore. Cioè, in che senso ho un cuore? In che senso, amico? Mi sono già bloccato, seriamente? Hai bisogno di un monito per giocare. Ah, ma c'è una stanza qua? Ok. Ah, 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 sì, sì. Sto casino per scendere due scale, essenzialmente. Wow, ok. Me lo avete chiesto in tantissimi di farlo, questo gioco. Spero che sia bello. Silenzio. Tutto è chiusa chiave, ok? Cos'è? No, io non capisco come si... Ah, ok, l'abbiamo aperta. Dorothy, cosa ci fai qui tutta pixelosa, brutta? Aha, là c'è qualcosa. Una chiave arrugginita. Madonna, ragazzi, sto gioco, però. Sapete già che mi blocco, vero? È impossibile che trovo tutti questi oggetti. Cioè, guardate come sono inculati nel mondo. È chiusa chiave. È chiusa chiave. Ok, abbiamo trovato delle grate. E là c'è... Ah, c'è una faccia simpatica là nel buio. Ed è la carne. Ah, vedete? La faccia c'è se non la guardo. Vedete? Se la guardo... Eh! Tipo così... Eh! Vabbè, ok. Se sei andata, ok. Questa si può aprire. Abbiamo cassetti, letti. Non c'è niente, non c'è... Non c'è un cazzo in questa stanza. Mi sembra strano. Mi sembra molto... Ah, sarà roba qua in mezzo alle stoviglie della morte. Che poi si chiamano librerie. No, secondo me in questa stanza non c'è niente, ragazzi. Io me ne andrei. Qua non c'è un cazzo, quindi andiamo... C'è un... Ah, un amorevole dipinto della Mona Lisa. Wow, wow, wow. Ah! Cosa che ride? Va affanco... Ok, sta risata e mi ha fatto cagare addosso. Ah, bene, abbiamo... Siamo in un utero. Bene, è bella sta cosa. Non sarà per niente divertente questo gioco. What? Ma si chiude così, seriamente? Ma no, ma che... Ma che cagata di gioco, eh? Ma dai, ma che... Non è finito di... Guarda la cartella. Ok, guardo la cartella. C'è una fottuta immagine chiamata ciao nella cartella. Oh mio Dio, quanto è inquietante sta cosa. Oh mio Dio, quanto è inquietante sta cosa. No. Seriamente? C'è una fottuta immagine chiamata ciao. Prima non c'era. Prima non c'era. E c'è... È un'immagine tutta nera chiamata ciao. E c'è anche un file di testo con scritto attenzione, ragazzi. Ve lo faccio vedere. Vedete? E c'è anche questo. Esiste un modo per trasformare un'entità in dati. Questi dati godono di vita propria ed edifici e distinguiti dai normali file del computer. In ogni azione quotidiana, mentre si è al computer, questa entità formata da semplici byte può osservarsi, studiare le nostre azioni e paure. Il gioco è semplice. Mettere i piedi sulle frecce e la chiave. Se vieni preso hai perso. Il suono ne pronuncia l'arrivo è white face. Ma che è sta cafonata? Ma no, ma che comportamentazione è questa verso un uomo che sta facendo una live? Se dimmi qual è il mio nome, è white face. Ho creato qualcosa per te. Non chiuderti di continuo. Basta, io ho una live da fare. Cos'è creato per me? Non c'è niente nella cartella di nuovo. Marcello. Ho creato qualcosa per te. Se dimmi qual è il tuo nome. White face. Ah, ok. Era il caps. Ok. Giochiamo a... Scopare. Ah, no, inseguirti. Ok. No! Ma perché dovresti mai volere una cosa simile? Sono un culo dopo tutto. Sono solo un culo io. Non inseguire un culo. Ah! Fuck! Papa! No, silenzio. Ah! Fuck! No! Cazzo, sto gioco di merda. Vaffanculo, ragazzi, ok? Perché mi consigliate ste cose? No. 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 Ah! Ah! Silenzio. Silenzio in aula. Ah! Dai! Sto silenzio. Cioè, questo suono. Silenzio. Tutti in fila. Ah, la grata. Silenzio. Quanto rumore. Porca merda. Quanto mi sono cagato addosso. Non ci sono frecce rosse. Segui le frecce. Ah, le frecce gialle. Devo seguire. Ma che cazzo di senso ha le frecce gialle? Sono quelle del parcheggio. Oppure il mostro è stato così attento da, tipo, piazzare le frecce del... Ha detto, minchia, ora sceglie un parcheggio che abbia le frecce come le voglio io. E in modo tale che l'ho fotto tantissimo. Sì, ma qua che ci sono i bivi, cioè. Frecce, frecce non mi fate incazzare. Frecce non mi fottete. Ah, vendetta vera. Non finirò in galera. Madonna. Ah! Cos'è stato sto casino della morte vitale? Della silenziata. Devi calpestare. Sulle frecce doppie devi girare prima una e poi l'altra parte. L'ho fatto. Ok, vai alla porta. Trovata. Ok, ascensore, appunto, silenzio. Ah! No, vedete? Questo, no? C'è tutto l'ascensore incredibile della morte che mai fu dei re della vendetta dei giorni passati che non furono mai abbastanza. Cosa vuol dire il sperma rosso ovunque? Ok, e ora che devo fa... No! Ma che cazzo? Passava di lì, tipo, ehi là, com'è? Stavo andando a comprare le sigarette. Adoro guardarti. Madonna, se sei inquietante. Queste risate. No, è sparito per te. Mi scusi, signora faccia. Ok. Sì, lo so che devo riguardarmi. Se vuoi mi masturbo mentre ti guardo. Anch'io, non è senso. Come vuoi. Che... Cos'è? Oh! Oh! Oh, mio Dio! No, no, no! Si è aperto su Chrome un iso... No! No! Allora, per quelli che si stanno chiedendo cos'è accaduto. Si è aperta su Chrome. Cioè, mi si è aperta un'immagine di Chrome così. Guardate. Mi si è aperto sto coso su Chrome. Ok. Ok. Non è normale. Io non voglio più giocarci. Io gioco a Peggle. Ma vaffanculo. What do we do with a drunken sailor? What do we do with a drunken sailor? Scusate. Ok. Mi si è aperta la faccia. Bene. Sono felice. Ok. Adesso, per colpa del fatto che si è aperta la faccia, non posso più vedere né la chat né niente. Non posso vedere un cazzo. A parlare un sacco come se fosse un forsennato. Hai accolto la chiave del cancello. E io ora cammino così. Adesso io cammino così. Madonna che fastidio però. Il bello è che mi si è aperta sul Chrome e nell'altro schermo, no? Quindi appena mi si è... Soffro. Va bene. Non me ne frega un cazzo. Ci godo. E ora? Silenzio. No, basta. Ma basta. Io non posso vedere niente così. Ok. Era importante che io riuscissi a leggere quella frase. Ah. Ma perché i baratri infernali senza paura del mondo? Ma siamo di nuovo qua. La porta è chiusa a chiave. La porta è chiusa a chiave. Sì, ma io ho qua accanto a me il mio secondo monitor con il suo bel faccione che mi fa troppa paura. La porta è chiusa a chiave. La porta è chiusa a chiave. Mi mangio tutte le rane. Madonna. Intanto sto guardando la chat, tranquilli. Exit. Fine? Seriamente? Dai. Io ho paura. No, no. Stai per subire un gran colpo al cuore. Grazie. Addio di Hiddo. No, perché? Trema. Mi si è aperta. Questa immagine non ha intenzione di lasciarti andare. Non avrei dovuto spronarti ad andare avanti. Segui le mie istruzioni. Non lasciarti ingannare dall'aspetto del gioco d'ora in poi. Se le cose cambiano, lui arriva. Prendi tempo e cerca di uscire. Questo gioco... È bellissimo questo gioco come sfonda la quarta parete. Mia nonna è bellissima come sfonda la quarta parete. Dai, no, basta. Vi giuro, non ho mai voluto così tanto in tutta la mia vita che un gioco finisse. Non l'ho mai voluto così tanto in tutta la mia vita. Ok. Immagino che devo andare qua. C'è una finestra. Aha. La chiave è troppo distante. Quindi... E quindi... Sotto la panchina. Sotto la panchina. Sotto la panchina. Questa? Pinze. Grazie mille. Grazie mille. Sempre efficientissimi. Chiave... Ah, 8. No, dai. Perché è buio? Ma è... Bisogna. Bisogna. È necessario, no? Non volevo farlo. Neanch'io volevo giocare a questo gioco. Ma sei lì dalla finestra. Com'è? Ah! Cos'era sto rumore? Cos'era sto rumore? Non voglio girarmi. Io non voglio girarmi. Chi se ne frega. No. Cos'era sto rumore? Cos'era sto rumore? Cos'era sto rumore? Cos'era sto rumore?